ragazzi dedicato agli amici sardi e e e e e Noi dimoni e vivi sì come angeli, ma vivi qui nel centro del nulla, ma già non fuoco per tenerci figli e tutto la testa, c'è un'incredibile esposione di vita inarrestabile. Ci spandiamo energie speciali e vigiani per creare correnti essenzionali. Come quei due avanti che il cante fa girare il tempo, ci cerchiamo con mille puradiari. Quale bellezza, quale bellezza, chi può salvare solo la purezza? Stati nei venti, il fuoco di sensi, i desideri più sommersi, è un'incredibile infusione di vita in vita. Oltre alle strade, ci spandiamo energie speciali e vigiani per creare correnti essenzionali. come quei due avanti che il cante fa girare il tempo, ci cerchiamo con mille puradiari. come che il cante fa girare il tempo, ci cerchiamo con mille puradiari. ci spandiamo energie speciali e vigiani per creare correnti essenzionali. come quei due avanti che il cante fa girare il tempo, ci cerchiamo con mille puradiari. e richiami mille puradiari mille puradiari mille puradiari mille puradiari grazie grazie La ferramenta è vero! Chi passa? La ferramenta è più buono! Eh, chiamalo tu al ferramenta!